Ciao a tutti e benvenuti su Michele e i Rettili. Nei video vi dico spesso che sono un caso a parte, perché io ho tanti animali e do il massimo per ciascuno. Traduciamo in una cosa materiale puramente, io spendo tutti i miei soldi per tutti i miei animali, ok? Quindi io non è che sono ricco miliardario, io sono povero, io guadagno 1000 euro al mese forse, in banca ci avrò 400 euro, però so che quei 400 euro li userò praticamente tutti per i miei rettili. Quindi vediamo 6 anni di questa mania cosa mi hanno portato a spendere, perché non lo so neanche io. Quindi in questo video vogliamo scoprire insieme cosa ho speso io per tutto. Terro fuori dalla lista, tipo la pittura dei muri, le robe che non c'entrano con i rettili, tipo i tavoli, o questo divano, o le cose del set, le luci, la telecamera, cioè quelle cose non le tengo, tengo solamente proprio le cose della perraristica. E lo scopriremo insieme perché io non lo so, cioè io spendo tutto quello che ho perché mi serve per tenere i miei retti al meglio e io voglio dargli il massimo. Non è che ho soldi infiniti e vabbè già che ci sono prendo anche i retti, no, io ho fatto una scelta di vita. Io levo da 7 anni all'incirca, però come già detto in altri video, seriamente lo faccio da 5 anni fa, insomma, quando ho preso i Zucco, Umbreon, bestia di Satana, tutti insieme, no? E ho quindi avuto il boom di animali. Andrò a memoria e facciamo la somma di tutto quello che ho speso fino ad oggi in 7 anni. Mi viene già male. Prima voglio invitarvi a prendere un termostato dalla mia campagna Kickstarter, perché sta per finire. Kickstarter funziona così, è un sito di crowdfunding, dove si può preacquistare una cosa che ancora non esiste, per far partire appunto la produzione della suddetta. A noi per far partire la produzione servono 10.000 euro, non li abbiamo ancora raggiunti, quindi probabilmente non li raggiungeremo nemmeno e quindi tutti quelli che hanno preso il termostato finora non lo riceveranno mai. Ovviamente i soldi non vi saranno dei tratti se la campagna non va a buon fine, quindi queste persone che già l'hanno acquistato non hanno ancora speso nulla e mi sa che non spenderanno mai nulla perché non sono bravo a vendere, non sono bravo a buttarvi continuamente la pubblicità e pagare le Facebook Ads. Non le so fare io queste cose, cioè... Io sono uno, se volete il termostato lo prendete, io l'ho fatto, è lì a disposizione. Mi sa che non vedrà mai la luce del sole questo progetto, quindi il mio termostato ce la vorrò solamente io, sarà una cosa unica che ho io. E va bene così. Se volete il vostro termostato avete tempo fino al 31 di agosto 2022 per cliccare il link qua sotto e andare sulla campagna e prendervene uno. L'abbiamo fatto veramente col cuore, ci abbiamo messo mille opzioni, abbiamo fatto un'app che permette di controllarlo, il tuo termostato può monitorare 10 terrarie contemporaneamente, con 10 sonde diverse, quindi a queste 10 sonde possiamo connettere 20 cose elettroniche tra luci e riscaldamenti. Hanno ognuna tra le sonde, quindi potremmo vedere due temperature nel terrario e un'umidità, tutto pulito lì sul display della scheda madre via wireless, perché comunicano in maniera wireless tra le sonde e il display della scheda madre. Ognuna è indipendente dall'altra, quindi se sentiamo una sonda per tenere 32 gradi nel terrario, possiamo fare quell'altro terrario e tenerlo a 45 gradi. In più facendo i test abbiamo comparato il nostro termostato ai termostati digitali in commercio adesso. Sul livello delle istruzioni e sulla certificazione CE di quei termostati, c'è scritto di non collegare più di 400 watt alle prese nella maggior parte dei termostati. 400 watt vuol dire che non puoi mettergli una ciabatta dentro e collegare tipo 4 emettitori in ceramica da 200 watt, non puoi, perché rischia di fondersi dentro il chip e fare fumo e addirittura prendere fuoco. Per la nostra macchinetta dove c'è la sonda potete collegare apparecchi elettronici fino a 2000 watt, non è il doppio, non è il triplo, è il quadruplo. Quindi in realtà se volete potete anche tranquillamente mettere una presa con una ciabatta lunga e collegare tutti i terrari in una sonda, quindi prendere un termostato con una sonda e fare tutti i terrari che volete. Ovviamente non saranno temperature indipendenti, dovremo tenere delle temperature tutte uguali, però si può fare. Ripeto, se siete interessati, tutta la storia in italiano è sul mio sito michelirettili.com e la storia in inglese invece, dato che lo facciamo a livello internazionale, è su Kickstarter. Per comprarlo però dovete farlo necessariamente su Kickstarter. Serve solo una carta di credito e non vi saranno scalati i soldi subito. Andiamo avanti con il video. Allora, partiamo con gli animali, dato che sicuramente sarete interessati soprattutto a quelli. Però parleremo di tutto, anche l'oggettistica, cioè voglio fare la somma di tutto, voglio scoprire quanto è. Badate, ovviamente sarà un sacco, perché ovviamente sommeremo un sacco di cose che ho comprato in sei anni. E soprattutto io ho un canale YouTube, quindi magari non è un prezzo indicativo di quello che c'è da spendere in generale per gli animali. Perché io sicuramente spendo di più. Però, Zuko l'ho pagato 450 euro. Sei costoso, zucchino. Ricciardino l'ho pagato 130. Sì, è una telecamera, Ricciardo, tranquillo. John l'ho pagato 130 lo stesso giorno dallo stesso allevatore. Bellissimo l'ho pagato 120. Tetra l'ho pagata 150. Giuseppe, il Tokai e vari altri animali mi sono stati regalati, quindi quelli non li conto. Inferno, che è lì, l'ho pagato 100 euro. Ramen l'ho pagato 120 euro. Jacob è il primo in i miei oretti e non lo paga io perché me lo regalò mia mamma per farmi una sorpresa. Mi ha rovinato la vita. Naga l'ho pagato 110 euro e poi non lo vedo mai. Vabbè, è qui da qualche parte. Tiamat mi è stata regalata. L'idolomantis mi è stata regalata e le bestie di Satana ora sono tutte morte. Sono morte tutte e tre. Avevo detto di due che erano morte ma dopo un mesetto è morta anche l'altra. Probabilmente stava morendo forse di vecchiaia, non lo so. Le avevo pagate 45 euro l'una. I ratonzi? L'ho pagato 5 euro e 50 lui. 5 euro e 50 al ratonzi. Quindi lui e lei 10 euro, 11 euro loro due. La coppia di Tribolo Notus, oh my god dove sta andando, le ho pagati 130 euro tutti e due insieme. Sì ma devi stare tranquillo però. Te non ti ho pagato, ti ho salvato dalla Sicilia te. Te ti ho preso su gratis. Bene. Gli cinchetti ne presi 4 per 12 euro l'uno se non sbaglio. Le tarantole mi sono state tutte regalate tranne l'arpactira pulcripes. Mi sono state tutte regalate le tarantole e anche lo scorpione, l'amiga dei scorpioni. E anche la scolopendra mi è stato tutto regalato questo. Per l'arpactira io avevo preso anche una vipularia purpurea che è morta e una caribena versicolor che è morta pure lei. Avevo speso in totale 90 euro. Con l'espedizione perché arrivava dalla Polonia. Umbreon l'ho pagato 40 euro. Metti dentro il codino. Metti dentro quel codino lì. Noctis l'ho pagata 150 euro. Le rane mi sono state regalate. Kavu. Attenzione. L'ho pagato 300 euro. Tania. Shiva l'ho pagata 60 euro. Poi qua c'è Cthulhu che avevo pagato 350 euro. Ok, già qua ho paura di sapere qual è il prezzo che è uscito. Però adesso dobbiamo contare tutto. Le gabbie e tutto quanto. Quella gabbia me la regalò Nadia. Quindi non so quanto costa. Questa gabbia l'ho pagata 120 euro. Questo terrario l'ho pagato 150 ma era super scontato. Costerebbe tipo 220. Questo terrario l'ho pagato 40 euro. Questo l'ho pagato 60. Queste scatoline e tutto questo non l'ho pagato. Mi è stato regalato. Questo l'ho pagato 110 euro. Questo terrario era una sponsorizzazione quindi mi è stato regalato. Questo è un terrario di Agripet Garden che non l'ho mai usato. Costa mi sembra 35 euro. No, questo è quello grande. Mi sembra che costa di più. Però comunque vi metto qua l'annuncio di Agripet Garden. È molto bello ma non so bene che cosa metterci dentro. Anche questo era un terrario sponsorizzazione. Quello della Biorb quindi non l'ho pagato. Ovviamente andremo a vedere quello che ho pagato per le decorazioni, per le terre, piano piano, con calma. Vediamo tutti i terrarie adesso. Questa lanternina l'avevo pagata 60 euro. Era super scontata. Questi qua ne ho presi 3 per le mantidi e costano 18 euro l'uno. Questo non l'ho pagato perché mi è stato regalato. Questo terrario con sotto quella scocca che gli ho fatto se no toccava terra e non mi piaceva. Ho pagato 550 euro tutto con altri 120 euro di scocca. Questo terrario mi era stato regalato. È uno dei primi che mi è stato regalato su subito.it perché c'era una persona che gli era morta la pogona e non gli serviva più il terrario. Gli ho detto vengo io a prenderlo. Questo terrario è di mio papà. L'aveva una tartaruga tantissimi anni fa e me l'ha regalato lui. Per questo ho pagato 60 euro. E si vede perché è tutto rotto. Mi ho messo un po' di colla a caldo per non far tagliare il gecko. Questo terrario lo feci io per dei ciliatus tantissimi anni fa e ci ho speso parecchio. Questo l'ho pagato 80 euro perché era un vecchio rack di tarantole. Infatti c'erano tantissimi scomparti. Li ho tolti tutti e ho fatto 4 scomparti. Per i vetri però ho pagato 240 euro. E l'adesivo che ci sta dietro è un'illustrazione tutta grossa. È un mega adesivo pagato 110 euro. Mi fa una box di Giuseppe e l'ho pagato 25 euro se non sbaglio. Il terrario di Jacob mi è stato appunto regalato da mia mamma perché è il primo terrario che presi e me l'aveva regalato lei. Il terrario di Inferno l'ho pagato 100 euro se non sbaglio. Questo l'ho pagato altri 80 euro anche se è inutilizzato ora. E questo che è il primo terrario che montai in totale l'ho pagato in totale 800 euro. Perché l'ho fatto in formica. Tutto questo coso dove ci sono Tiamat e Naga. Bene non abbiamo contato le cose dei camaleonti perché i due camaleonti che avevo. Uno l'ho dato via, uno è morto. Mi sono costati comunque. Quindi i due terrari costano 99 euro l'uno. E Fernando l'avevo pagato 180 euro. Mentre l'onto l'avevo pagato mi sembra 90. Qua c'è un altro terrario che ho pagato altri 80 euro. E questo l'avevo pagato 150. Questo qua è un 120 per 60 per 60. Questo mi è stato regalato eccetera. Però adesso dobbiamo vedere una cosa importantissima. Le vaschette. Le vaschette. Voi penserete ma costano un sacco di soldi. Non mi ricordo esattamente. Quindi arrotondiamo dicendo che ho pagato 20 euro a vaschetta. Perché alcune lo pagate 15 ma altre lo pagate 35 e 40. Facciamo 20 a vaschetta anche contando quelle piccole. Quindi 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. Ah sì ho preso anche questo terrario. Mi è costato 20 euro questo. Pensa te. Però non trovo più il pezzo davanti perché l'ho preso tantissimi anni fa. Ah anche questa è una vaschetta. Quindi 20, 20. Altri 20 aggiungi. Mi sono perso il conto. Poi c'è il terrario di cavo in sé. Che ho fatto un video apposta. E vedete tutti i componenti che ho utilizzato. Tra il vetro. Tra la basta. I plexiglass che sono 3 metri. Tra tutto il legno. Mi è anche avanzato e ho fatto questo. Quindi per questo e questo qua. Tra vernici, substrato, letane che ci sono dentro. Le prese d'aria, i pezzi metallici e le cose elettroniche. Ho speso 3.000 euro. Questo in totale di questo terrarietto qua. Poi c'è questo che non ho mai utilizzato. È il terrario di una persona che non lo utilizzava più. Lo usava per delle gernie se non sbaglio. E me l'ha dato a 120 euro. Anche se costerebbe molto di più. Vabbè queste robe non le conto. C'è il timer che uso per fare le faccende dei rettili. Cioè non le contiamo. Queste cose secondarie non le contiamo. Il silicone però sì. Quasi quasi. Il silicone lo conterei. Facciamo che ho speso 200 euro in silicone per tutti i terrari. E chiudiamolo lì. Ma sicuramente di più. Benissimo. Cominciamo a pensare ai substrati vari. E mi sono costati tanto. Tra sassi del livello di drenaggio. Le terre varie sopra. I muschi. Le sabbie. E robe così. Io direi mettiamoci 400 euro di substrati in tutto. In sei anni. Secondo me. Compresa la bentonite. Compresi gli aspen che ho preso. Sono stato modesto. Sicuramente ho speso di più. Ma mettiamo 400 euro. Ad esempio questo è un coso di muschio che mi avanza. Costano queste cose. Non sembra ma costano. Passiamo alle piante. Non conto queste qui. Che uso per decorazione della stanza. Però le piante finte. E le piante vere. Le contiamo se sono nei terrari. Queste sono due potos. Che ho pagato 20 euro l'una. Oltre a queste due potos c'è una vaschetta super bella. Che avevo pagato 35 euro. Tutta questa corteccia non mi ricordo quanto è costata. Ma è costata. Perché è un bel pezzo di corteccia. Facciamo che per tutti e due i pezzi ho speso 40 euro. Anche se secondo me è di più. La tana era costata 30 euro. Bene. Poi ci sono gli attacchi delle lampade. Che costa 20 euro un attacco. Più 20 euro l'emettitore. Avevo speso 100 euro per un led. Perché non sapevo bene quale prendere. Ho preso uno da casa e sono scemo. Ho speso tantissimo per questo led. Per niente. Quindi questo led dei due terrari mi è costato 100 euro. La rete va bene. Non la calcolo. Anzi mettiamola. Perché tanto ho usato solo quella. L'ho presa una volta questa rete. Ho preso tipo 10 metri. E ho speso tipo 40 euro. E la sto usando ancora tutt'oggi nei miei progetti. Per intenderci è questa. Ce n'è ancora un sacco per utilizzare dei terrari. Poi questo terrario ha due potos. Quindi anche questo ho pagato 20 euro per potos. E un ficus non mi ricordo esattamente. Che ho pagato 25 euro. Il brutto è che sto cosino qui che mi guarda con quel faccino puccioso. Mi ha distrutto un sacco di piante che erano qui. C'erano almeno due piantine che avevo pagato 10 euro l'una. E una grande là. Che ho sostituito due volte. E me l'ha uccise tutte e due le volte. Adesso glielo lascio libero quell'angolo. Perché ho capito che ci va a far la cacca e spacca tutto. Però quelle due grosse le ho pagate due volte 30 euro. E non riesci a farle rimanere in vita. Fino a un car armatino sto coccodrillo. Poi ci sono delle rocce. Non le conto perché l'ho pagata davvero 20 centesimi. E questo tubo di corteccia molto bello. L'ho pagato 25 euro se non sbaglio. E quella tana lì è uguale all'altra. Quindi altri 35. Questa non mi ricordo. Facciamo 10 euro. Per Johnny ho pagato questa statuetta mi sembra 12 euro. Questa qui un 10 euro anche lei. Sarà 8 non mi ricordo. Questa tana le avevo pagate 25 euro l'una. E il legno di Java l'avevo pagato insieme a quello lì grosso. Tutti e due le avevo pagate 40 euro. Il Teschi Cubone mi è stato regalato da Bassi Garden. Insieme a quella tana stampata in 3D. I legnetti li ho raccolti in natura e la bentonite l'abbiamo già contata. Però c'è questo sfondo che avevo comunque pagato mi sembra 15 euro. Contiamo anche il riscaldamento. Quello lì è un riscaldamentino che costerà 12 euro. E gli attacchi delle lampade sono due. Costano 20 euro l'uno. Ho un tubo su questo terrario di UVB. Con quindi un reattore. Questo reattore costa 25 euro. Gli attacchi del tubo costano 20. E il neon in sé costa 16. Questo terrario è connesso a un termostato digitale. Ma facciamo dopo il conto perché mi viene male quello dei termostati digitali. Per Richard questi qua mi sono stati regalati la tana di cocco vabbè costa 4 euro. Quella lì era quella che costa 25 euro. Questo l'abbiamo già contato. Lo sfondo in 3D c'era già nel terrario e la piantina non la contiamo. Non mi ricordo quanto costa. Per Zuko il terrario era già dipinto così. Quindi l'ha pagato il proprietario di questo. Mi diceva che gli era costato parecchio. Questa vaschetta me l'era costata 40 euro. È una di quelle grosse. Tipo 37 non mi ricordo bene. Però ecco 40 euro. Questo tubozzo è bello grosso per farlo appunto nascondere sotto. E mi era costato anche quello 28 euro se non sbaglio. Quel pezzo di corteccia l'ho preso in natura. Mentre quello là l'avevo comprato. Mi era costato 14 euro se non sbaglio. Una roba del genere. Questa lastra non mi ricordo se è in Ardese o robe così. Che è grande tutto il pezzo. L'avevo pagata 28 euro. Per questo terrario non ho utilizzato. Ci sono un sacco di decorazioni ma non le avevo pagate perché me le avevo regalate. Mi sembra Agripet Garden. Avevo pagato solo questa corteccia qua. Sempre un 14 euro circa. Ci sono lì delle lampadine. Senti non contiamole. Vediamo le tane di Jacob. Le avevo pagate una 25 euro e questa 20 euro. Per le piante finite avevo speso un sacco di soldi. Mi sembra di aver speso 30 euro mi sa. Però c'erano anche queste qua. Quindi non le contiamo. Questi sono rami che ho preso in natura. Quello è un coso di corteccia acquistato e l'avevo pagato 30 euro se non sbaglio. Questa vaschetta ce l'avevo da un sacco di anni. Non mi ricordo quanto l'ho pagata. E questa che è quindi un sasso ma dentro è cavo. Infatti c'è dentro il serpentino. L'avevo pagata 30-35 euro. Fai 35 non mi ricordo bene. Questo sbirulino ho preso un teschietto decorativo a 25 euro. Perché l'ho preso in giardineria. Mi è costato uno sbrego. Una vaschetta dell'acqua che è vuota. Adesso la devo andare a riempire. Costrerà un euro questa. E la corteccina che l'avevo pagata 10-15 euro. Di Naga c'è il video della costruzione. Avevo speso un sacco di soldi. Perché avevo preso delle piante. Avevo preso un sacco di cose. Questo ce l'avevo già perché l'ho trovato in natura questo qui. Quello lì l'avevo comprato. Avevo preso delle piante lì. Io direi che per questo terrario ci avevo speso almeno 200 euro. La sto tenendo veramente bassa come spesa. Secondo me era molto di più. Però togliendo il silicone che abbiamo già contato. Fai 200 euro. Per Tiamat. Questo è un mobile che avevo in casa. Quindi non l'ho pagato. Però c'è un leddino lì. Che avevo pagato con il reattore. Tutto mi sembra 25 euro. Quella vaschetta lì bellissima. L'ho pagata anche quella 35. E il resto sono vasi che avevo in casa. Sono mensele. Ci ho preso il tappetino di linoleum. Che è questo qua. Che avevo pagato dai cinesi mi sembra 20 euro. C'è questo bellissimo teschio di Beotodus. L'ho chiamato così. L'avevo preso apposta perché sembra un teschio di Beotodus. Per chi gioca a Monster Hunter. Che non ho mai utilizzato in nessun terrario. L'avevo preso a 40 euro. Mi piaceva talmente tanto che ho fatto questa spesa. Ma poi non l'ho più utilizzato. E qui a fare nulla. C'è questo pezzo di corteccia grandissimo. Non mi ricordo dove viene. Non mi ricordo quanto l'ho pagato. Non lo so. Non lo contiamo. Ci sono però delle piantine. E sono quelle che avevo preso anche per Maligos. Mi avanzano anche qui. Guarda quante. Queste piantine qua le avevo pagate in totale. Mi sembra tipo 50 euro. Costano le cose finte? Costano. Qua c'è un'altra cosa di corteccia. Aggiungiamo 10 euro. C'è un'altra qua dentro. Grossa. Aggiungiamo 20 euro. Giusto per inserire anche quel cocchetto lì. E i sassi. E le piante finte. Penso di averle già contate con quello che vi ho appena detto. Dei 50 euro. Quella pianta carnivora me l'avevo legata a Nadia. Le altre le avevo già. Quindi sono inserite in quella spesa che avevo appena detto. Quella è un'altra tana da 25 euro. Quelle che vi dicevo. Che si aprono. Qua c'è un potos che mi costa comunque 20 euro. La tana l'ho costruita io. Il coso l'ho costruito io. Ho preso le spugne che mi sono costate fai 8 euro. Per la pompa quell'esterno bianco mi è stato regalato. Ma quello dentro l'ho pagato comunque 20 euro. Per questo terrario ho preso un sacco di piante. Quindi comunque queste qui costano 5 euro. Quando le ho presi piccoline. Quindi 5, 10, 15, 20 sicuro. Poi c'erano anche questi da 10 euro l'uno. Quindi altri 20 euro. Un tronco grandissimo che ora manco si vede. Perché è tutto coperto. E quel tronchetto che c'era dentro l'avevo pagato mi sembra 25 euro. E le rocce non le contiamo. Perché comunque costano niente. Però contiamo il sale marino. Avevo pagato il sale marino e il seracoi che do a Cthulhu. Tutti e due avevo pagato mi sembra 60 euro. Per farmeli arrivare. I cibi li lasciamo fuori. Perché sennò qua sfolliamo. Lasciamo fuori pure i cibi. Però per voi due ho preso quella lì. Che è costata un sacco. Me l'ha costata 25 euro. E la casetta anche quella a 20 euro. Quello lì costa tipo 10. Quella lì costa tipo 15. Di terrari ci siamo. Mi sa che abbiamo finito. Guardiamo invece le cose aggiuntive. Perché questa è tutta una vetrimetta piena di cose per rettili. Questi mi sono stati regalati. Però vabbè ci sono cibi. Ci sono cose per tenere i bruchi. Mettiamo di bulbi negli anni avrò speso 200 euro per i riscaldamenti. Così almeno li mettiamo lì. Per le luci fai altri 200 euro. Così abbiamo contato tutte le luci UVB e non. Ci sono le prolunghe che non si vedono. Sono dietro i terrari. Ce ne saranno un centinaio. E se prolunga qua comunque costano 4 euro una. Quindi aggiungiamo 20 euro di prolunghe. Sicuro. Ma l'ho speso di più. Le ciabatte sono quelle che costano. E di ciabatte ce ne sono tante in giro. Fai almeno 6. Quindi 6 per 2. Sono 120 euro. Solo di ciabatte. Poi vabbè ci sono robe che ho preso per provare. Capito? Quindi aggiungiamo cose assortite. Prodotti disinfettanti. Termometri digitali per provare. Roba così. Quindi aggiungiamo 100 euro di jolly. Di robe per provare. Poi ci sono le illuminazioni che non utilizzo. Ah c'è un reattore come abbiamo detto prima. Il reattore è 25 euro. Questi qua 20 e il tubo 15. Qua ci sono i vari insetti. Quindi anche per collemboli, isopodi, tropicali e robe così avrei speso tanto. Però per fortuna Gripped Garden me li manda gratis. Quindi per fortuna almeno quelli non ho speso. Ci sono dei patè di insetti. Con anche repasci e robe così. Non li contiamo. Qua veri ci sono led inutilizzati. Gli avanzi. Ah queste qui ne avevo 3. Non so perché sono sparite. Ne ho trovata solo una. È sparita. Questa qua costa comunque 14 euro. Quindi per 3 non è poco. Ci sono timer digitali ovunque qui. Perché comunque magari ho fatto upgrade. Roba così. I ugelli. Questi ugelli qua costano 10 euro l'uno. Mi fai 10, 20, 30. Più quelli montati. 40, 50 e 60. Il fatto è che c'è anche la pompa. Questa pompa costa 60 euro. Spara l'acqua all'interno del terrario. Poi ci sono tappetini inutilizzati. Domi inutilizzati. Fai che tutta questa roba qua. Vedi altri timer. Fai altri 50 euro direi. E ora è arrivato il momento dei termostati digitali. C'è qua il prezzo. 60 euro. Questo è uno. Andiamo a contarli. Non conto quelli analogici. Ok? Non li contiamo neanche i prezzi di quelli analogici. Quindi 60. Ma ce n'è uno rotto. 120, 180, 240. Questo è quello anche con l'igrostato. Non so perché, non chiedetemi. Questo costa 80 euro. E poi c'è un altro che recentemente ho dato via. Quindi altri 60 euro. Non mi serviva proprio perché ho il mio termostato digitale qua. Qui c'è un fogger che non sto neanche utilizzando. Mi era costato, se non sbaglio, 60 euro. Oh mio Dio, ci sono anche tutti i supplementi. Lasciamoli perdere i supplementi. Qua ci sono le pompe. Questa pompa qua è una pompa da 35 euro, ma ne ho cambiate almeno 5, che mi ricordi almeno 5, di quelle più sfigate, quelle da 20 euro. Perché mi sono rotte, cadono, si rompono subito. Questa almeno è un pochino più resistente, la sto usando da un sacco di tempo. Vediamo. C'è altro? Ok, è arrivato il momento del colpo di scena. Perché... Questi li ho presi solo per i rettili. Questa è la stanza dei rettili. È un condizionatore della Samsung. Ho preso quello migliore perché si può accendere da solo se rileva la temperatura troppo alta o troppo bassa. Questo è un motore. Il fatto è che c'è uno per stanza, quindi ce n'è un altro lì con un altro motore fuori. Non contando quello che ho messo anche in camera mia perché, cavolo, voglio anche io un condizionatore. Direi che questa cosa mi ha portato via almeno 2.000 euro. Tra appunto il comprarlo e il farlo montare appunto dall'idraulico. Ora capirete perché sono povero. Oh, è la mia passione. Ognuno ha le sue passioni, ok? Io ho speso i soldi per questo. E sono comunque le spese che ho fatto in 6 anni. Non voglio sapere quanto è arrivato finora al conteggio. Ti giuro, ho paura di tarlo sto video. Ho paura di fare la somma. È per quello che dico che non tutti sono come me. Perché non tutti forse sono disposti a spendere tutti i loro soldi per i propri animali. Io voglio che stiano bene. Quando ho un po' di soldi dico, ah, c'è Zuko che ha bisogno di un upgrade del terrario. E allora io lo faccio. È la prima cosa che penso, insomma. 6 anni dopo, eccoci qua. Quindi se volete vedere contenuti migliori e errare più figli e animali aggiuntivi, e se volete che compri un nuovo animale o roba così, soldi devo prenderli da qualche parte, insomma. Se tutti mi donaste un euro su Patreon, io avrei 100.000 euro da spendere in rettili. Sìììì! Dai che bello! Mi aprirei un mega zoo qua dentro con le guane sui soffitti. Vabbè, comunque. Se ti va, sostenimi su Patreon che mi aiuterebbe davvero tantissimo. Mi aiuta nella produzione dei video e a pagarmi appunto gli equipaggiamenti che servono, come telecamere, luci, computer e cose del genere. Se non ti va di passare su Patreon, tranquillo, lasciami un mi piace qua che aiuta tantissimo con l'engagement. Lasciatemi anche un commento sotto dicendomi quanto voi avete speso per il vostro animale. Bene, iscrivetevi se non siete iscritti. Ci vediamo in un prossimo video. Ricordatevi di passare sulla campagna Kickstarter se volete il mio termostato. E ciao! Allora, da quanto è che distrugge il Terraria? Scusate il disturbo, buonasera e benvenuti all'Agripetegate. Stasera la casa consiglia il gruppo Gona che contiene 150 grilli a chetadomestica, una dose di tarme della farina, 200 larvi di ermetia che sono ricche di calcio e vitamine, per contorno una bella dose di caimani e come dolce una dose di camole del miele. Oppure se volete rimanere sul classico abbiamo degli ottimi bacchi da seta, molto ricchi di proteine, di calcio, vitamine e alimentati al naturale con delle foglie di gelso. oppure se volete rimanere sul classico ho due locuste saltellanti. Però, eh, allora per me è un menù un po' Gona e per la signora delle locuste saltellanti. Grazie. Grazie, Gripet Garden! Su... Grazie. Grazie. Grazie.